Ciao a Petes.it, l'ultimo film di Fratelli Manzina, Caccia al tesoro, si apre con Nessuno va a teatro, a Napoli nessuno va a teatro, nessuno occupa più quegli spazi, il pubblico non c'è più, soprattutto se il teatro è quello dell'attore cane interpretato da Domenico, il personaggio divertentissimo di Vincenzo Salemme, così pazzo che fa Molière in napoletano, oppure prova a fare Natale in casa Cupiello di Edoardo De Filippo in marsigliese, cioè è un eccentrico, è un regista, attore, sceneggiatore, tutto fa, ma fa tutto male, tanto che la situazione è disperata e soprattutto il pubblico è disperato, la situazione è disperata e il pubblico come è? Disperato pure lui, c'è il controcampo appunto nel teatro di Domenico di Vincenzo Salemme c'è solo una persona, molto divertente. Allora che fanno Imanzina? Fanno una cosa molto bella e romantica, prendono il teatro e lo portano in strada, lo portano davanti ai nostri occhi in una Napoli che diventa palcoscenico a cielo aperto e Caccia al tesoro è un film molto affascinante che mi ha anche emozionato nel finale perché arriva un grande napoletano in musica ed è un atto d'amore tra i più forti che ho visto recentemente a una città, a un popolo perché Napoli non è una città, Napoli è un popolo, è un continente, anche Ian McKellen l'ha detto ultimamente, ha fatto un incontro a Roma dove ha fatto una battuta bellissima ma i napoletani sono italiani, siete sicuri? E ha ricordato alla grande Edoardo De Filippo. Il giovane Vincenzo Salemme ha cominciato, perché Ian McKellen amava molto Edoardo De Filippo, il giovane Vincenzo Salemme ha cominciato a lavorare giovanissimo con Edoardo De Filippo, questo è un film di grande omaggio perché c'è non solo un omaggio ad Operazione San Gennaro che è uno dei film più divertenti della storia del cinema, è uno dei film con il titolo più bello e più figo della storia del cinema perché Operazione San Gennaro è una cosa pazzesca, di Dino Risi, che omaggia perché c'è l'equivoco di... Ma che mi ha parlato San Gennaro? Ho visto un raggio di sole e qua c'è... Vai, 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 vai! Che è arrivata... Uno dice, ma San Gennaro mi sta autorizzando a rubare il suo tesoro. Serena Rossi, che è sempre splendida perché è un'attrice vitale, rigogliosa, Serena Rossi, io proprio ho una passione per lei incredibile, che c'è un po' troppo poco in questo film. E comunque Serena Rossi e Vincenzo Salemme sono parenti, si trovano appunto vicino a San Gennaro e hanno la sensazione, come in Operazione San Gennaro con l'aria un raggio di sole, qua c'è una voce, hanno la sensazione che San Gennaro proprio parli loro e dica loro di fare una certa cosa. C'è da fare una truffa, c'è da rubare qualcosa, ma a fin di bene, per la salute di un nostro caro. E allora parte questo film che si muove tra Napoli, Torino e Cannes, ma alla fine è sempre Napoli, è sempre Napoli che ovunque va domina tutto, conquista tutto, soprattutto attraverso il rapporto fumantino e litigioso fra Vincenzo Salemme e Carlo Bucirosso. Ferdinando, questo uomo disperato, questo napoletano disperato, con il quale Salemme ha un rapporto d'amore e odio per tutto il film, i due ovviamente lo sapete, si conoscono dai tempi dell'amico del cuore, che era del 1998, quindi... C'è questo eterno ritorno al duetto Totò Peppino, a questa jam session, a questo momento jazz, dove veramente non conta lo spartito, ma conta il fatto che questi partono e dove vanno vanno per noi, se amate questo tipo di intrattenimento, beh, ovunque vanno è meraviglioso. Allora il film ha una sceneggiatura estremamente esile, è un film molto gentile, è un film più teatrale che cinematografico, è un film dolcissimo perché i grandi cineasti a volte diventano anche grandi a livello anagrafico, quindi come sono Carlo Enrico Manzina in questo momento, e quindi c'è un'idea anche di recupero e di ricordo e di enfatizzazione e celebrazione di qualcosa che fa parte di noi. E quindi è un omaggio a Napoli bellissimo, tanto che a un certo punto questi due ladri improvvisati, Salemme e Carlo Bucci Rosso, incontreranno Max Tortora, che è Roma, e voi sapete che i Manzina sono super romani e anche super romanisti nel caso di Enrico, ma Roma è scema, Roma è ignorante, chiama il drone, ci sono tante gag con il drone, me compi il drone, chiama il drone drono, perché noi mettiamo la O, noi burini mettiamo la O, noi buzzurri romani mettiamo la O così, salve sono il zio, mi faceva tanto ridere Max Tortora in Un matrimonio da favola, dei fratelli Manzina che è un film che io adoro, uno degli ultimi film, e lì Max Tortora era ladro, sono il zio, era ladro, qua Max Tortora torna ladro, forse un po' meno improvvisato rispetto a Salemme, che è un attore, e a Bucci Rosso, che è un disperato, insomma questi uniscono le loro forze per andare a rubare questo tesoro di San Gennaro, perché pensano pure di essere stati autorizzati da San Gennaro, come in operazione San Gennaro di Nino Risi, e parte questo teatro itinerante, appunto Napoli, Torino, Cannes, c'è anche un'inquadratura molto forte del Palazzo del Cinema di Cannes senza il tappeto rosso, senza lo sfarzo che vediamo durante il Festival di Cannes, che è una cosa che i Manzina sono sempre molto incisivi, con delle inquadrature molto semplici che fanno, ma molto significative, come solo dei registi, degli cineasti di grande esperienza che riescono ad arrivare alla sintesi, insomma è un film leggerissimo, dolcissimo, gentilissimo, con dei grandissimi Salemme Bucci Rosso, Riso con un pazzo, Risi anch'io, oltre appunto ad Operazione San Gennaro di Nino Risi. È certamente un'offerta cinematografica per un pubblico agé, sicuramente, è un'idea di portare la grande tradizione napoletana degli Scarpetta, dei De Filippo, dei Salemme, perché Salemme dopo aver fatto la scuola con De Filippo, è egli stesso, un teatrante di grande tradizione e anche di grande successo a Napoli. E allora lasciatemi andare, se vi piace questa roba qua andrete fuori di testa, Bucci Rosso e Salemme sono in jam session continua e con un bel innesto di tortora ogni tanto che interviene a Figarra e Picone! È proprio un coglione come siamo noi romani, perché capito, Figarra e Picone sono siciliani e qui invece Totò e Peppino erano napoletani. Quelli d'un tempo e quelli di oggi che si chiamano invece Vincenzo Salemme e Carlo Bucci Rosso. Caccia al tesoro di Carlo Vanzina, con sempre Enrico Vanzina ovviamente in sceneggiatura. Ciao Bettevista!